Go, go, Buster, go, the wheels go round and round, go, 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 Buster! Chissà cosa imparerà oggi Buster a scuola! Oh, un vulcano! Wow! Faranno un esperimento! L'insegnante gli sta mostrando cosa fare! Primo, una goccia di polvere bianca. Poi, tre gocce di colorante alimentare. Poi, un po' di aceto per rendere tutto spumeggiante. Wow! Sembra un vulcano in eruzione! È fantastico! Tutti sono entusiasti! Ora faranno l'esperimento da soli! Che casino! Sembra che Bandito non l'abbia fatto nel modo giusto! Oh no! Nemmeno Scout ci è riuscita! Forse Buster! Buster ha combinato tanto casino quanto gli altri! Perché non funziona? Forse Ash ci riuscirà! Buster va a controllare! Ash sta ancora mettendo gli ingredienti! Wow! Ha funzionato! Bel lavoro, Ash! Ma come ci è riuscito, Ash? Visto che tutti gli altri hanno sbagliato! Oh! Ha seguito le istruzioni sulla lavagna! Buona idea! L'insegnante è orgoglioso di Ash! Ora gli altri ci riproveranno! Ma prima controllano bene cosa devono fare! Prima una goccia di polvere bianca! Poi tre gocce di colorante alimentare! Poi un po' di aceto per rendere tutto spumeggiante! Evviva! Funziona! I vulcani stanno eruttando! Non sono bellissimi? Ottimo lavoro, ragazzi! È incredibile quello che puoi fare se segui le istruzioni! L'insegnante adesso è orgoglioso di tutti!